Prosegue il viaggio in Italia della giovane attivista svedese Greta Thunberg che all'indomani dell'incontro in Vaticano con Papa Francesco che l'ha incoraggiata ad andare avanti nel suo impegno contro i cambiamenti climatici, ha partecipato in Senato al convegno Clima, il tempo cambia e tempo di cambiare. Abbiamo avuto tutto quello che potevamo immaginare, ma forse alla fine non avremo nulla. Probabilmente adesso non avremo neanche un futuro, perché è il nostro futuro che è stato venduto in maniera tale che un numero piccolo di persone potessero godere di un'enorme somma di denaro. Ci è stato scippato e ci viene rubato ogni volta che ci dite che noi abbiamo soltanto il cielo come limite e che possiamo vivere una volta sola. Ci avete mentito, ci avete dato delle speranze false, ci avete detto che il futuro era un qualcosa a cui non dovevamo guardare. E sì, certo, alcuni di noi possono avere tutto quello che vogliono, ma per ora. Ma voi non ascoltate tutto questo, perché queste risposte certamente per risolvere una crisi non possono farlo da sole, hanno bisogno della vostra comprensione, ma voi non volete comprendere. Non siete interessati ad ascoltare ciò che vi dice la scienza, perché solo siete interessati alle soluzioni che vi consentiranno di continuare come avete fatto fino ad ora. Ma ciò non è possibile, queste risposte non esistono più. Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o meno. La scienza non ha interesse di enormi somme di soldi o di stili di vita comodi che voi cercate disperatamente di proteggere. L'atmosfera è interessata soltanto alle migliaia di tonnellate di gas serra che noi pompiamo nell'atmosfera. Le emissioni dei gas serra devono fermarsi, questo è quanto, nient'altro. Per evitare che il nostro clima si distrugga dovremmo pensare come coloro che hanno costruito le cattedrali, ovvero costruire le fondamenta per poi arrivare al tetto. Quando noi decidiamo di compiere un atto possiamo fare qualsiasi cosa, io sono certa. La nostra casa in fiamme non c'è più tempo da perdere e ognuno deve fare la sua parte, è stato il monito della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che poi ha elencato alcune delle buone prassi messe già in campo da Palazzo Madama, come l'adesione al progetto Plastic Free per l'eliminazione di imballaggi e oggetti di plastica useggetta, l'utilizzo per ragioni di servizio di auto elettriche e ibride, l'installazione di lampade a basso consumo in tutti gli ambienti di lavoro interni e la digitalizzazione dei servizi legislativi per una significativa riduzione dell'utilizzo della carta. Oggi il messaggio forte che il convegno che si è tenuto in Senato ha voluto dare è quello che nessuno può voltare la faccia dall'altra parte di fronte ad una emergenza climatica che è planetaria. E i ragazzi, Greta e i ragazzi di due gradi, che vanno sempre ascoltati e che oggi hanno dato una sveglia alle coscienze, hanno sottolineato il fatto che le politiche devono sempre ispirarsi alla tutela del territorio. E poi c'è una cosa che va sempre tenuta presente. Spesso si dice che l'ambiente non va d'accordo con l'economia. Non è così. L'ambiente è certamente qualità della vita, aria pulita, cose importantissime, ma l'ambiente impatta positivamente sull'economia perché secondo studi delle organizzazioni mondiali sul lavoro le politiche ispirate all'economia verde potranno produrre 24 milioni di posti di lavoro entro il 2030 e un aumento superiore al 4% del PIL. Questo significa ambiente e quindi qualità della vita, ma significa anche economia, sviluppo e posti di lavoro.